Ciao a tutti, oggi sono a casa col mio amico Chi è? Questo qua? Allora che chi se non parla perché non si fida di quello che gli vado a fare È una sfida Voglio fargli assaggiare questo Che gli piacerà sicuramente Ma lui non sa cos'è E quindi sta tenendo gli occhi chiusi Comunque è Tom Dark 3 Io sono da da 30 Allora Rizzi Andiamo all'assaggio Tieni Non guardare Tieni il bicchiere in mano Tieni Mangia senza toccare Mangia Dov'è il cucchiaio? Qua Su Sta mangiando Orca no Carica Orca no Se mi sporco Fermo fermo Tori a casa Scusa Sta cadendo Orca 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 Ti do'io Ti do'io Sogno Apri la bocca Che cosa? Che sta roba merda Posso aprire gli occhi ora No indovina cos'è Non lo so Indovina cos'è Mangia di nuovo Sei bravo Giusto? Apri gli occhi Giusto? Indovinato E ci vediamo in un prossimo video Ciao Iscrivetevi Ciao Ciao Ciao